Signora Presidente, signor Presidente del Consiglio, sono due le ragioni per cui il gruppo di area popolare, nuovo centrodestra, centristi per l'Italia, voteranno sì alla fiducia che lei ha chiesto a questo Parlamento. La prima ragione sta nella premessa e nella prima parte del suo discorso, quando ha parlato di continuità nell'azione legislativa e per noi la continuità nell'azione legislativa significa rispondere alla domanda, una domanda semplice, alla domanda che anche chi è qui in Parlamento o chi sta seguendo il nostro dibattito si pone. È stato utile, ha dato risultati concreti, è servito quell'azione di responsabilità che solo nel novembre del 2013 ha visto, non solo la nascita del nostro gruppo parlamentare e della nostra forza politica, ma l'assunzione di responsabilità da parte di molti e di tanti per portare fuori questo Paese dalla crisi economica e da un impasse istituzionale che lo aveva preso tutte le istituzioni. La prima ragione sta sempre nel rispondere a questa domanda. Ci siamo assunti una responsabilità, l'abbiamo fatto con la coscienza della diversità, delle nostre identità, della nostra proposta politica e con il coraggio delle nostre azioni e delle nostre storie. In questi tre anni qualche risultato, qualche risposta, qualche corrispondenza a questa azione di responsabilità non per noi, non per il nostro risultato, per il nostro consenso, ma per l'interesse neanche del Paese, ma dei milioni di cittadini, delle milioni di famiglie, delle migliaia di milioni di imprese. È accaduto qualcosa? Ha avuto un risultato concreto. Ecco, la prima ragione sta nella continuità, nel rivendicare non con orgoglio, ma con serietà i risultati concreti e la responsabilità di un'azione che ha prodotto qualcosa. Per noi sono, ma lo ridiciamo, perché non è solo la memoria, ma è innanzitutto la coscienza di un lavoro, di un risultato e anche del tanto lavoro e del tanti risultati ancora che si dovranno fare. Ci sono nomi che sono entrati nella memoria, nel dibattito in questi anni dei cittadini, ma che dicono concretamente che cosa si è fatto. Jobs Act, parolaccia inglese, ma 588 mila posti di lavoro in più. Sono ragioni concrete, sono uomini, donne, persone a cui non abbiamo dato una risposta, ma abbiamo permesso di avere un po' più di dignità nell'azione comune, nella possibilità di dare a chi dà lavoro, cioè alle imprese, di giocare la loro partita. Sono sufficienti? No. C'è da lavorare ancora fino a che c'è un disoccupato nel nostro Paese e dobbiamo rimboccarci le maniche e fare e dare risposta alla dignità della persona e dell'uomo. Riduzione della pressione fiscale. Da anni è stata la nostra battaglia, è la battaglia costitutiva di un centrodestra, di forza moderata, che dice che non è possibile la pressione fiscale che esiste in questo Paese. In questi tre anni qualcosa è accaduto, cosa si è fatto? L'Imu, bene o male è stata eliminata, piaccia o non piaccia. La possibilità che le imprese non paghino più quella maledetta tassa dell'IRAP sul lavoro, nell'andare concretamente e quando uno dà il lavoro deve pagare anche la tassa, non c'è più. Le nostre imprese italiane dal 1 gennaio 2017 pagheranno la tassazione più bassa europea. Era al 28% e al 24%. Non lo so, io so solo che sono risultati, sono lavoro che insieme al Partito Democratico, alle forze che hanno sostenuto questa maggioranza, al Presidente del Consiglio Renzi e a tutti noi stiamo ottenendo. La scuola, abbiamo parlato tanto della libertà di educazione, di un sistema di offerta pubblica dell'istruzione che vedesse la partecipazione di tutti nella libertà di scelta delle famiglie. L'alternanza scuola-lavoro, che è uno dei temi più grandi di questo Paese. La famiglia, il bonus bebè, il bonus asilo nido, il bonus mamma. Sono esempi concreti. La salute. Quanti anni si è discusso che dovevamo introdurre i costi standard nella sanità? Oggi ci sono. Quanti anni abbiamo detto che c'era il diritto da parte dei cittadini di poter accedere indipendentemente dal loro reddito a cure nuove per le malattie grandi che prendono donne, uomini e famiglie? Oggi è possibile. La sicurezza. Altro tema importante che sta a cuore dei nostri cittadini. Bene, abbiamo fatto grandi eventi nel nostro Paese. Abbiamo risposto alla minaccia terroristica. Ecco, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ma questa è la prima ragione. C'è un'altra, seconda ragione, altrettanto importante. Perché se non prendessimo atto di quello che è successo con il voto del referendum, noi è come se avessimo e continuassimo ad avere lo sguardo rivolto verso il passato, la testa rivolta verso quanto siamo stati bravi. Il dato referendario è un dato oggettivo con cui noi tutti dobbiamo fare i conti. L'assunzione di responsabilità nel nostro Paese non è comune a tutti. Il Presidente del Consiglio, Renzi, l'ha presa e ha dato le dimissioni. Noi abbiamo auspicato che quei toni da rissa, e qui il passaggio, signor Presidente, del Consiglio che lei ha fatto lo abbiamo totalmente condiviso, che quei toni da rissa, da scontro, da sfida all'Ok Corral, dalla dissida tra l'apocalisse se vincevano i no e l'attentato alla democrazia e il ritorno alla dittatura se vincevano i sì, aveva un unico risultato, far male a questo Paese. E dopo quel risultato che bisogna rispettare, non demonizzare e non pensare che tutti no, siano populisti o non populisti, abbiamo detto che la strada, insieme anche al Partito Democratico, era una, ancora una volta, testimoniare che la politica e le istituzioni avevano a cuore, prima ancora, che il proprio legittimo interesse politico e la propria proposta politica, l'interesse di un intero Paese. E che era necessario accompagnare questa fine della legislatura attraverso un governo che vedeva la collaborazione di tutti e che faceva quello a cui il Presidente della Repubblica Mattarella, che ringraziamo perché ancora una volta ha testimoniato la Presidenza della Repubblica e il Presidente della Repubblica Mattarella di aver a cuore di interpretare la sintesi dell'interesse dei nostri cittadini, quello che il Presidente della Repubblica ha ricordato a tutti noi e che sembrava essere da tutti condiviso. La legge elettorale, la crisi finanziaria, il terremoto, le questioni internazionali. Ho sentito grandi dibattiti, c'è bisogno per affrontare la crisi finanziaria che ovviamente il voto popolare e un governo sia legittimato dal voto popolare, assolutamente giusto. Ma c'è un piccolo problema, lo dico quando ci ascolta. Due milioni di correntisti del movimento della Banca dei Monti dei Paschi, il sistema finanziario delle banche che rischia di, se non c'è un intervento da parte di un governo che ci sia, non di un governo che non c'è e che aspetta la legittima e giusta legittimazione delle forze del voto popolare. Chi prende il provvedimento? Chi si assume questa responsabilità? È facile vociare, è facile parlare, ma poi qualcuno ce la mette la propria faccia, si gioca la propria partita. Questa è la politica, è la politica nel dire dove si sbaglia, nella politica nel dire che se si sbaglia si fa un passo indietro, ma è la politica che non dimentica l'interesse fondamentale dei cittadini e lo mette davanti, e lo mette davanti a sé. Bene, a questa nostra proposta è stato detto legittimamente di no, no. Ed è stato anche detto, dall'altra parte, c'è bisogno che qualcuno si assuma la responsabilità. La responsabilità deve essere assunta nel dare un governo perché tutti volevano che ci fosse un governo, lo dico a chi ci ascolta, dalle forze di questa maggioranza. Qual è la ragione per cui oggi, nel momento in cui, ancora una volta, con responsabilità nella diversità, le forze di maggioranza si assumono questa responsabilità, ritorniamo al fin della solita litania. Il quarto governo non eletto dai cittadini si impedisce di andare a votare, il problema è solo la spartizione delle poltrone. Cosa ci interessa? Cosa pensiamo e come pensiamo che, a furia di andare avanti in questo modo e a dire queste motivazioni, noi riconquistiamo una fiducia tra cittadini e istituzioni? Concludendo, non è pensabile, ed è questa la ragione per cui, ancora una volta, noi ci siamo assunti la responsabilità di sostenere questo governo, di accompagnare questo governo ad affrontare quelle emergenze, partendo dalla legge elettorale, senza alibi, senza alibi di rimandare in là nel tempo. Il Parlamento assuma l'iniziativa di fare una legge elettorale, lo può iniziare a fare adesso e si assuma la responsabilità. Ben ha fatto il governo a dire un passo indietro e vi accompagneremo. Ma quello che noi non accettiamo è, come al solito, il vociare della demagogia. Ho sentito deputati che in un'intervista dicevano ai cittadini non vi preoccupate, quando arriveremo noi faremo il referendum per uscire dall'euro, faremo un referendum per uscire dall'Europa. La demagogia, cari cittadini, è una sola, cari colleghi parlamentari, cara Presidente, è che bisogna ammettere di dire con coraggio che quella promessa che magari ti farà prendere tanti voti tu non la potrai rispettare, per un semplice motivo. Perché un referendum per uscire dall'euro non si può fare, perché l'articolo 75 di questa Costituzione che i cittadini italiani hanno confermato non permette questo e perché c'è una Costituzione che non permette nessun referendum propositivo. Ecco, sarà un esempio molto banale, ma è l'esempio di chi vuole contrapporre tra la demagogia, il vociare, le proposte anche importanti e interessanti che mai si possono realizzare e che continuano a portarci nel baritro, invece la semplicità e la forza di una forza politica moderata, cosciente delle proprie responsabilità, che usa la parola responsabilità concretamente e che mette l'interesse del destino delle migliaia di famiglie, delle nostre imprese e dei nostri cittadini davanti a tutti. Ed è la ragione per cui noi voteremo sì convintamente al suo Governo e per cui ci auspichiamo che anche nei provvedimenti che seguiranno questa diversità sia tenuta presente anche nelle grandi battaglie che fanno del nostro gruppo area popolare, NCD, centristi per l'Italia, il nostro contributo ideale e valoriale. Dalla legge ovviamente, dall'impedire la legge sulla liberalizzazione della cannabis, ai temi dei etici, ai temi dell'autanasia, che ovviamente, concludo, non potranno vedere questo Parlamento di esprimersi più.